E' il 39esimo volume scritto dal giornalista Rodolfo Colarizzi che ha voluto ripercorrere in 135 pagine uno spaccato di vita dello storico locale fanese dal 1947 ad oggi. Un posto in cui tanti hanno ballato, vissuto storie d'amore, conoscendo anche l'attuale moglie attraverso le danze di corteggiamento, un luogo di aggregazione per almeno tre generazioni. Il Forrida, denominato il Savioli delle Marche, oggi come allora è un punto di incontro e di riferimento per tanti giovani adulti. Da dove nasce questo libro? Grazie della domanda. Nasce intanto da un amore viscerale per questa splendida città che ho sempre amato, sia quando ero all'estero ma ancora di più adesso che sono tornato. E poi nasce anche dal profondo perché, visto in prospettiva tutto quello che è stato, acquisisce una certa voglia di tenerezza che ti invoglia a raccontare perché sono cose che se non le raccontiamo noi finiscono nel dimenticatoio. Cos'era il Forrida per quelli della vostra generazione e che cosa invece rappresenta oggi? Noi lo chiamavamo il divertimentificio, nel senso che era un punto di aggregazione dove si incontravano amici che giocavano a tennis, ragazze da corteggiare, dove venivano artisti, venivano cantanti ed era un luogo dove ci si poteva trovare, fare conoscenze, chiacchierare, ma soprattutto esercitare quello che era il momento più bello, cioè l'aggregazione e il senso di affiliazione tra amici, ragazzi e ragazze. Ne sono passati così tanti, da Celentano a Mina, da Rita Pavone a Fatti Bravo, ma anche personaggi molto amici della nostra città, come l'attrice Anna Maria Pierangeli che abitava in casa nostra, quindi l'ho conosciuta benissimo, è stata da noi quattro mesi. La famosa Eleonora Rossi Drago che poi si chiama Palmino Miccioli, è una fanese doc, è figlia del capitano di lungo corso Miccioli. E anche autobiografico? In parte sì, naturalmente, c'è molto di me, ma c'è molto anche di altri, naturalmente sì. Ha citato tanti personaggi famosi che venivano spesso nel locale, lo ha dedicato a qualcuno in particolare? No, a tutti, non in particolare, ma a tutti i miei amici, presenti e non presenti, perché molti dei nostri amici non ci sono, ma nella nostra memoria c'è sempre la fiammella del buon ricordo che ci aiuta a proseguire nello scherigno della vita. Un aspetto molto importante è il fatto che il ricavato sarà devoluto in beneficenza, a chi? Alla società Benemerita di Fano, a Damo, che mi è molto cara e mi sono iscritto anch'io, quindi ben volentieri sono contento di aiutare i malati terminali.